Tutti da Cris Attigere, il salutatore del blog, bellissima, grandissima sorpresa, Sabrina Ferilli, chi saluta tutto il web? Tutti il web, tutti il web. Mandiamo un bacione ai due fans? Grazie a tutti, ciao ciao. Salutiamo anche Francesco, il pupone? Ah ma tutto qui, stasera c'è una trasmissione. Bene, un grande bacio a Francesco. Ecco, ciao Forza Roma e a tutti i fans della bellissima Sabrina. Ok, ciao, ciao, grazie.